Benvenuti a questa video chat, la nostra prima video chat sul portale delle malattie rare col professor Alessandro Sartorio, endocrinologo dell'Istituto Auxologico Italiano con sede a Milano ed è prossima l'uscita nel 2012 di crescita, sindrome e malattie rare, esperto di obesità e di alimentazione, esordiamo col primo ospite che è Daniele e che cosa chiede Daniele? Malattie rare e farmaci orfani sono un circolo vizioso che sembra impossibile spezzare. Iniziamo da cose molto difficili, nel senso che il problema delle malattie rare, dei farmaci orfani, il circolo vizioso si può spezzare soltanto con un grosso sforzo, una grossa volontà anche da parte delle istituzioni nel fatto di investire, è importante che ci sia una forza obiettivamente che è credo le famiglie, i pazienti che hanno malattie rare, ma è importante anche che ci sia qualcuno che è in grado di ascoltare queste richieste, quindi credo che questo circolo vizioso si può spezzare soltanto con un investimento che in questi tempi non può essere solo un investimento credo delle istituzioni, ma deve esserci anche un investimento e una dimostrazione di sensibilità e di attenzione da parte delle industrie farmaceutiche e quindi chiaramente deve essere un lavoro che è fatto in squadra. Io credo che il fatto che i pazienti, le famiglie si uniscano sia veramente importante, è importante parlare di malattie rare, credo che lo sforzo più grosso sia quello che parlando si fa movimento, facendo movimento si può anche essere ascoltati e si può probabilmente interrompere questa cecità nei confronti di questi problemi che sono dei problemi veramente importanti, non voglio banalizzare il concetto, ma credo che un investimento maggiore sia necessario anche da parte delle aziende che poi dopo potranno anche trarre dei benefici economici, ma anche l'azienda deve mettere qualcosa di suo. Io ritengo che sia importantissimo fare movimento, ma che questo movimento comunicativo di sensibilizzazione vada portato al di fuori dei confini degli addetti ai lavori, perché uno dei problemi delle malattie rare è che se ne parla sempre tra chi le conosce, invece noi dobbiamo parlarne a chi non le conosce. Voi come istituto oxologico che state facendo per le malattie rare anche dal punto di vista della comunicazione? Ma dunque in effetti sono d'accordo con Margherita De Back sul fatto che bisogna cercare di uscire dai confini, dai confini ristretti, bisogna cercare di volare un pochino più in alto, volare un pochino più in alto significa avere il coraggio di parlarne, di coinvolgere anche le persone che non hanno queste malattie rare ma che hanno una sensibilità. Il nostro istituto è uno tra i più vecchi istituti a carattere scientifico in Italia, quest'anno proprio per dimostrare la sensibilità e per dimostrare l'interesse nostro nei confronti delle malattie rare ha dedicato il settimo rapporto sull'obesità in Italia alle malattie rare, quindi all'obesità genetica. Credo che questo sia una dimostrazione proprio di desiderio da parte anche nostro, di ricercatori, non soltanto di concentrarci sulle tematiche dell'obesità o della bassa statura nel ragazzino che è sostanzialmente sano, ma guardare anche all'aspetto della genetica. Quindi il nostro sforzo è uno sforzo importante di informazione. Io credo che sia veramente fondamentale fare informazione e fare informazione in un modo corretto e equilibrato, trasmettendo chiaramente tutte le conoscenze maggiori della ricerca scientifica per far sì che di queste malattie si possa parlarne, non siano soltanto delle malattie conosciute soltanto a spot raramente conosciute, ma debbano essere delle malattie conosciute e da tutti. Io saluto in linea l'associazione famiglie di Lashenian, scusate se pronuncio male, io le malattie le incontro quasi quotidianamente perché mi vengono segnalate. Questa associazione non è la prima volta che ha dei contatti con noi. Benvenuti e grazie per partecipare a questa nostra attività di promozione. Al di là di questo quadro generale, le chiedo al professor Sartorio, c'è qualcosa nel dettaglio che voi state facendo? Io leggevo qui fra le sue carte la sindrome di Turner, che è una delle malattie che credo siano implicate in problemi di endocrinologia. Sì, noi in effetti stiamo cercando, come Margherita De Bacca diceva nell'introduzione, il nostro sforzo nasce lontano, nasce molti anni fa. Stiamo cercando di raccogliere del materiale per studiare al meglio la crescita e lo sviluppo dei ragazzini che hanno queste sindrome. È chiaro che un aspetto importante per noi è la diagnosi precoce, ma una volta fatta la diagnosi è importante che ci sia una conoscenza corretta di quella che è la crescita, degli aspetti di crescita. Noi vogliamo garantire a questi ragazzi una crescita sia in statura che in peso e uno sviluppo sessuale importante. Margherita ricordava la sindrome di Turner, sicuramente è una tra le sindrome più interessanti dal punto di vista clinico, proprio per gli aspetti e le ripercussioni negative che questa sindrome ha nella crescita e nello sviluppo puberale. Teniamo conto che una sindrome di Turner ha delle problematiche di bassa statura estrema, per cui è necessario ricorrere a un trattamento, è necessario comunque, non voglio focalizzarmi soltanto sulla sindrome di Turner, ma parlare delle sindrome in più a carattere generale, è molto importante l'inquadramento auxologico, cioè l'inquadramento auxologico, l'ausologia è la scienza che studia la crescita, è importante inquadrare l'aspetto della crescita e cercare di garantire a questi ragazzini accanto alla soluzione dei loro problemi legati alla sindrome specifica anche alla soluzione dei problemi per quanto riguarda l'aspetto crescita sia in statura che in peso e soprattutto, ricordo ancora, in termini di sviluppo puberale. Possiamo dire qualcosa a proposito di questa malattia, la cui associazione è in linea con noi, visto che ci ascoltano? Sì, dunque allora, in effetti una delle cose più critiche nelle malattie rare è che essendo rare è molto difficile fare delle linee guida dei protocolli, perché è molto più facile fare linee guida dei protocolli quando la malattia è molto ben conosciuta. È chiaro che l'aspetto dello sviluppo sessuale è un aspetto importante, ed è un aspetto importante sia per il ragazzino o per la ragazzina, ma è un aspetto importante che ha dei risvolti fondamentali anche dal punto di vista psicologico. Teniamo conto che l'aspetto psicologico in un ragazzino, già l'adolescenza è un problema difficile per un ragazzino che non ha una sindrome, pensiamo un istante a un ragazzino che attraversa l'adolescenza avendo una sindrome, avendo anche un ritardo nello sviluppo sessuale. Queste chiaramente sono delle problematiche importanti, allora io credo che è fondamentale che questi genitori siano in grado di cogliere il problema. Cogliere il problema significa rendersi conto che c'è questo problema, a volte i ragazzini non lo dicono che c'è un problema psicologico e tengono dentro questo problema. In questo mondo noi stiamo assistendo a un anticipo puberale, io parlo di ragazzini non sindromici, però stiamo assistendo ad un anticipo puberale che è mostruoso nelle ragazzine, per cui con delle problematiche psicologiche enormi, ma i grossi problemi sono anche nello sviluppo puberale ritardato, in cui il ragazzino negli anni dell'adolescenza, in cui spesso si confronta con i suoi coetanei, si sente chiaramente diverso e quella diversità non dobbiamo cercare di annullarla, cercando di aiutarli al meglio, ripeto, io non predico accanimenti terapeutici. Io credo che sia importante essere molto sereni e una delle filosofie del mio gruppo è quello di curare i ragazzi, i figli di altri come se fossero figli miei, quindi il concetto deve essere quello, io non voglio accanirmi a fare terapia a tutti i costi, però cerchiamo comunque di risolvere i problemi nel meglio nella tutela della salute del ragazzo. Io ho raccolto tante storie che riguardano malattie, dove è implicato il ritardo dello sviluppo sessuale, ho visto che sono spesso i genitori a voler negare la realtà e quindi ad allontanare il momento della rivelazione al figlio, quanto di più sbagliato perché significa ritardare anche le cure? Sì, questo è facile colpevolizzare sempre i genitori, io dico che è anche giusto ma bisogna anche cercare di essere a fianco ai genitori, io credo che spesso un genitore non vuole rendersi conto del problema e questo capita in tantissime situazioni, capita a fronte… che non si rendono conto, le mamme di bambini in sovrappeso non se ne rendono conto, non ne hanno la percezione. È un problema frequentissimo, soprattutto se un genitore ha lo stesso problema, quindi se un genitore è obeso non si accorge che il suo figlio è obeso e ritarda l'intervento, noi ricoveriamo dalla nostra clinica dei ragazzini con delle obesità estreme, cioè ragazzini di 12 anni 150-180 kg, è chiaro che lì la colpa va sì un pochino al genitore, perché non può essere il bambino che a un certo punto prende e va dallo specialista, deve essere il genitore che lo accompagna. Quindi se il genitore non si rende conto questo diventa un problema. Ed è lo stesso problema che a volte c'è nei ritardi dello sviluppo sessuale. Devo dire che in Italia però sul ritardo dello sviluppo sessuale del maschio generalmente c'è una certa attenzione. Il problema è che spesso questi ragazzini si rifiutano di farsi vedere, quindi a volte anche un genitore deve essere, non dico un guardone, ma deve anche avere una certa attenzione a vedere, anche se il ragazzino si rifiuta di farsi controllare. Quindi io credo che se un genitore non riesce a fare questo, metta comunque in conto il fatto di fare un controllo della crescita di suo figlio con una certa periodicità. Sarà poi dopo lo specialista a decidere se è necessario fare qualcosa. Però non lasciamo questi ragazzi nell'incertezza e in questo vissuto di problematica psicologica perché i ragazzini si confrontano con i coetanei. E i ragazzini a quell'età sanno essere molto cattivi, per cui sanno anche infierire su quel ragazzino che ha delle diversità anche nello sviluppo sessuale che è un aspetto importante. Ogni quanto dovrebbe essere fatto il controllo della crescita? Ma questa è una domanda difficile. In effetti io credo che il controllo dovrebbe essere fatto annualmente. Anche per i bambini, gli adolescenti, perché noi facciamo controllare i bambini quando sono piccoli, invece da grandi non andrebbero lasciati. La domanda avevo detto all'inizio che era difficile e poi dopo ho dato una risposta semplice. In effetti i controlli dovrebbero essere condizionati da una serie di fattori, cioè vuol dire in un ragazzino che cresce normalmente il controllo annuale, facciamocelo dire da un esperto, se in effetti la crescita è normale. In alcune situazioni chiaramente può essere necessario un controllo più ravvicinato, in altri casi un controllo più dilazionato. Quindi io credo che se noi diciamo un anno mi sembra una cosa corretta. Poi sarà lo specialista a dire no, la crescita procede normalmente, ma è importante anche dire se la crescita procede normalmente in relazione alla crescita della famiglia, quindi è molto importante il parametro dei genitori, è molto importante nel caso delle sindrome delle malattie rare, confrontare la crescita di quel bambino che ha la malattia rara con quelle che sono le carte di crescita specifiche della sindrome. Allora io lancio qui un grande messaggio, noi stiamo producendo l'anno prossimo una raccolta delle carte, delle principali sindrome, perché è importante capire se un ragazzino che ha una sindrome cresce normalmente in relazione alla sua sindrome o cresce addirittura al di sotto o al di sopra degli standard della sindrome stessa. Quindi il mio invito è, associazioni che ci ascoltano, se avete del materiale, delle carte di crescita di altezza peso, indice di massa corporea, mandatecele perché vi introduciamo all'interno della nostra raccolta e credo che questo sarà uno strumento messo a disposizione di tutti i medici gratuitamente, dal nostro istituto gratuitamente di tutti i medici italiani per avere tutti i medici gli strumenti migliori per seguire questi ragazzini nel modo più corretto possibile. Allora visto l'invito a mandare materiale, diciamo anche dove, dove lo devono mandare? Allora la mia mail è molto semplice, sartorio che è il mio cognome, chiocciola auxologico.it, quindi chi ha del materiale, chi vuole mettersi in contatto con me può farlo a questo indirizzo mail e noi cercheremo nei limiti di possibile di dare risposte, ma mi piacerebbe veramente proprio avere un coinvolgimento massimo, cioè se noi riusciamo a far parlare di queste problematiche di crescita, tutti gli specialisti di tutti i centri italiani, chiaramente favoriamo una maggiore conoscenza e io spero con Margherita De Bacca l'anno prossimo di avere un incontro proprio di presentazione di questo progetto per dare una sensibilizzazione e quindi per uscire da quegli stretti confini, è inutile parlarci tra di noi, ok? Ma è importante anche avere una comunicazione all'esterno perché la gente che non ha questi problemi conosca questi problemi. Allora approfittate, approfittate di questo contatto col professor Sontorio che può servire a tutti voi e che potrebbe entrare a far parte delle ricerche dell'Istituto Oxologico, io vi saluto e lascio a Sabrina la parte della conduzione, grazie, ci sentiamo per la prossima video chat. Grazie, arrivederci. Arrivederci. C'era già una domanda, Daniele chiede, le malattie rare sono un banco di prova della ricerca scientifica e ne trae il giovamento l'intera medicina, sono malattie in cui il cui studio implica una centralità della ricerca? Sì, dunque, è chiaro che sono un banco di prova, il grosso problema è sempre quello che essendo relativamente rare, non tutte rare, questo banco di prova, la ricerca chiaramente ha delle possibilità di trovare nuovi farm, di trovare nuove soluzioni, il problema sono i numeri, se i numeri sono piccoli chiaramente è difficile trovare degli investitori, quindi questo penalizza un pochino in generale la ricerca di tutti, credo che uno degli sforzi più grossi che noi ricercatori facciamo è quello di trovare dei fondi, è sempre difficile poter lavorare, realizzare dei progetti senza avere fondi o avendone pochi, quindi io spero che obiettivamente in futuro ci sia un'attenzione, una sensibilità, ma questo possiamo ottenerlo soltanto parlando, io credo che bisogna avere molto entusiasmo, molta forza, non fermarsi di fronte alle difficoltà e parlare di queste problematiche e poi io penso che in un modo o nell'altro i fondi si possono trovare, la ricerca non si può fare senza fondi, se non ci sono fondi, chiaramente la ricerca finisce con l'essere limitata, i risultati parcellari, è inutile fare notizie con delle promesse o delle fantasie di trattamenti innovativi se poi dopo non ci sono le basi per dimostrarlo, per fare studi controllati, ripeto, studi controllati che non dino delle sensazioni ma che dino dei dati effettivi, reali. Professore, c'è in linea un'associazione a condroplasia? Io credo di conoscere il presidente di questa associazione, è un'associazione veramente che io ammiro, stimo moltissimo e quindi sono prontissimo a sentire tutte le domande che arrivano da questa associazione. Tra l'altro voglio anticipare agli amici dell'associazione a condroplasia che nella prossima raccolta delle nostre carte di crescita ci saranno le carte di crescita della condroplasia e della ipocondroplasia e quindi spero che magari loro mi possano dare una mano, so che la loro sede è a Milano, loro mi possono dare una mano magari a trovare delle altre carte perché credo che sia veramente importante avere una conoscenza corretta di tutti gli aspetti ausologici di crescita di questa sindrome e quindi cercare di ottenere anche dei finanziamenti per studi mirati. In passato avevamo tentato con l'associazione a condroplasia, con la sua presidentessa, di arrivare ad avere dei finanziamenti, poi dopo ci siamo arrestati perché poi preparare delle application per i finanziamenti comporta dei tempi, il tempo è denaro se poi dopo non arrivano i finanziamenti è un investimento a perdere. Io credo che invece se noi riusciamo anche con questo portale importante sulle malattie rare che oggi mi ospita a creare una rete, a creare un legame, credo che questo sia estremamente importante. Faccio il tecnico, è sparito lo schermo. Lei è ancora in video, non si preoccupi. Perfetto. Ok. Professore, le famiglie sindrome di Lesch-Nayan si sono rese disponibili a contattarla, quindi ad inviarle eventualmente anche del materiale. questo è veramente importante. Ripeto, io sono dell'idea che se noi riusciamo a creare delle sinergie, penso che si possa anche cercare di attingere a dei fondi. Ci sono fondi italiani che sono generalmente abbastanza limitati, ci sono dei fondi più importanti europei, credo che con la forza le application ai fondi hanno un impatto importante se ci sono entità diverse, se ci sono istituti scientifici, se ci sono associazioni, se ci sono università. Ecco, se riusciamo a mettere insieme questa realtà, coagularle tutto intorno, si possono trovare dei fondi per cercare di garantire un futuro migliore. Io credo che sia molto importante credere in questo, sia molto importante comunicare questo e cercare, io ho accolto con grandissimo entusiasmo il fatto di essere qui in questa video chat a parlare di questi temi, perché credo fortissimamente nel fatto che l'aspetto crescita sia un aspetto centrale per le sindrome. È chiaro che noi dobbiamo guardare nelle sindrome prima l'aspetto sostanziale della sindrome, ma ricordiamoci che questi ragazzini hanno il diritto, il diritto, di crescere nel modo migliore possibile e noi dobbiamo cercare di fare il possibile per realizzarlo. Professore, prima abbiamo dato la mail dell'istituto axologico, la sua mail presso l'istituto axologico, ci chiede Attili, l'istituto axologico è pubblico o privato? Dunque, allora, il nostro istituto è un istituto carattere scientifico di diritto privato, ma è chiaramente convenzionato col sistema sanitario nazionale, quindi si può accedere tranquillissimamente con impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale. Nel frattempo ci ha scritto anche l'Associazione per l'acondroplasia e ci chiedono per l'acondroplasia ad oggi quale ricerca si sta facendo. L'ultimo studio è stato fatto dal professor Liboi, poi non ne sono stati fatti altri. Dunque, parlare di acondroplasia mi fa tornare indietro di 25 anni, quindi mi fa capire quanto sono vecchio, perché uno dei primi studi che noi avevamo fatto erano studi proprio nella acondroplasia con gli interventi di allungamento degli arti. In effetti ci sarebbe grandissimo terreno per studi importanti nella acondroplasia. Credo che il grosso limite è sempre quello di riuscire a individuare delle nicchie di interesse particolare, credo anche di individuare dei gruppi che facciano della ricerca in modo serio e producano anche molto. Io sono sempre solito a dire che quando un'associazione incontra un interlocutore scientifico dovrebbe sempre fare una cosa, andare a fare un PubMed e vedere quanto questo ricercatore ha pubblicato. Credo che questo sia un buon biglietto da visita, un biglietto da visita più importante rispetto alle parole di presentazione di un ricercatore. Penso che ci sia molto da fare nella acondroplasia, anche perché, ripeto, è una di quelle associazioni che conosco per essere molto dinamica, fa delle cose molto belle, credo che però al di là di fare delle cose molto belle in cui ci si parla un pochino in salotti ristretti, io farei uno sforzo veramente per cercare di avere anche un supporto dei media importante per che queste informazioni, si parli di queste sindrome in un modo non cupo, ma trasmettendo un messaggio di serenità, ma soprattutto di voglia di fare. Io credo che obiettivamente per qualche associazione c'è un po' di fermo. Il fermo non è colposo, non voglio dire che è colposo, ma il fermo significa non aver voglia un pochino di investire. Io sto investendo moltissimo dal punto di vista personale in questa operazione di conoscenza degli aspetti di crescita, della ricerca legata alla crescita. Sono responsabile e invito tutti quanti ad andare a visitare il nostro sito che è www.cresceressani.it che è un sito dedicato, inizialmente pensato per le famiglie che hanno dei ragazzi con problematiche di crescita, ma ragazzi non sindromici, ma io sto pensando che questo sito potrà ospitare quelle associazioni che vogliono comunque, che dimostrano una sensibilità nelle problematiche legate alla crescita. Quindi io credo che se noi non rimaniamo isolati nei nostri piccoli orticelli, ma cerchiamo di allargare un pochino i nostri obiettivi, probabilmente questo può portare dei benefici a tutti quanti. Professore, l'associazione che ci contattava a proposito di acondroplasia è un'associazione nata da circa tre mesi, loro sono di Aprilia, la Presidente si chiama Nadia Privato, le chiediamo se... Sì, è un'associazione nuova, io conosco l'associazione acondroplasia storica che aveva sede a Milano, però vuol dire, io credo che qualsiasi associazione che opera seriamente sul territorio nazionale, quindi che ha degli obiettivi, sono sempre dell'idea che bisognerebbe cercare di evitare un pochino le frammentazioni, perché poi dopo si rischia di essere, rappresentare piccoli numeri e i piccoli numeri purtroppo non servono. Però voglio dire, qualsiasi associazione che ha questo spirito, questa attenzione a queste problematiche, ripeto, io faccio l'endocrinologo ma mi occupo di crescita dei ragazzi, quindi a me importa nell'aspetto della sindrome l'aspetto crescita, quindi gli aspetti legati sia all'aumento di peso, all'aumento della statura, allo sviluppo sessuale, quindi io guardo molto allo sviluppo armonico. Un sviluppo armonico che può essere presente anche in un ragazzino o in una ragazzina che hanno delle sindrome, quindi credo che il nostro gruppo che è Crescere Sani è fatto da un insieme di specialisti di diverse discipline che offrono gratuitamente la loro consulenza a chi ha bisogno e questo credo che in un momento in cui tutti fanno a pagamento il fatto di offrire delle cose gratuitamente sia una cosa estremamente importante. Nel nostro sito si può accedere, si possono fare delle domande, ci sono esperti di diverse discipline, cioè quindi tutte inerenti chiaramente all'aspetto crescita che possono dare delle informazioni sicuramente molto trasparenti, molto oneste, non disinteressate. Credo che una famiglia ha bisogno di sentire questo. Professore, anche l'associazione di Aprilia della quale stiamo parlando si è resa disponibile a mandare del materiale. Rivengono una bella iniziativa, insomma, sia la raccolta sia la video chat che stiamo conducendo. Questo apprezzo, apprezzo questo apprezzamento, penso che sia importante. Noi abbiamo raccolto nella edizione, noi abbiamo fatto la prima edizione di Crescite Sindromi nel 2007, adesso abbiamo deciso di fare questo aggiornamento 2012, la prima edizione era cartacea, adesso passiamo a questa edizione su CD. È un progetto veramente importante, ci saranno all'interno le carte della condroplasia, dell'ipocondroplasia, ci saranno all'interno carte di crescita, io continuo a parlare di carte, poi dopo non so chi mi ascolta se conosce esattamente cosa sono le carte. Le carte sono quei grafici che mi permettono di stabilire a una determinata età e per un determinato sesso se l'altezza, il peso, l'indice di massa corporea, qualsiasi altro parametro, circonferenza cranica, eccetera, sono normali o sono alterati. E quindi mi permettono di dire se all'interno di una sindrome c'è un problema o meno, perché uno tra gli errori più gravi sarebbe quello delle sindrome di utilizzare delle carte che non sono specifiche. Il progetto Crescere Sindromi che noi faremo nel 2012 sarà inviato gratuitamente a tutti i centri italiani universitari e ospedalieri che si occupano di crescita, quindi noi vogliamo che il nostro lavoro venga conosciuto anche al di fuori del nostro istituto, quindi noi offriamo questo. Siamo quei ricercatori che non sono gelosi del proprio lavoro. A me piace fare il mio lavoro con entusiasmo, mi piace farlo, ma mi piace anche dare il mio lavoro agli altri, perché è inutile tenere le proprie scoperte, le proprie ricerche, chiusi in un cassetto che servono soltanto per dire ho fatto una pubblicazione in più. È importante cercare di rendere partecipi tutti quanti e quindi di fare una ricaduta effettiva sul territorio, sui pazienti, perché le conoscenze possono essere migliori e le cure possono essere quindi migliori. Allora, sempre in aglia privato, la Presidente dell'Associazione Acondroplasia Insieme per Crescere la saluta e ha fatto la precisazione circa le due associazioni. Una avrebbe sede a Milano, quindi operante nel territorio di Milano e l'altra è ad Aprilia. No, 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 molto bene. Io conoscevo la Presidentessa dell'Associazione Acondroplasia di Milano, so che adesso c'è stato un cambiamento nella Presidenza, avevamo avuto in passato dei contatti anche così, con molto entusiasmo reciproco, ci eravamo piaciuti, questa era la cosa positiva. Il problema è che poi dopo, alla fine, quando si devono fare delle scelte e bisogna cercare di andare a fare la ricerca dove poi dopo questa ricerca trova dei finanziatori. E quindi ci eravamo dati una pausa di riflessione, è una pausa di riflessione che è durata un po' troppo tempo per i miei gusti. Devo dire che l'Associazione Acondroplasia si era rivolta in altre direzioni, ma questo è il passato. Io spero che il futuro possa essere invece un futuro di avvicinamento, un futuro così per cercare di sondare le possibilità di una collaborazione futura.